buongiorno ben trovati Stefano Crafonara proprietario dell'hotel Ancora di Predazzo è qui con noi buongiorno Stefano ben trovato buongiorno buongiorno a tutti allora splendida giornata il sole c'è la gente i clienti vedo che sono arrivati direi un estremamente positiva la situazione sì bene abbiamo riaperto la grande alla fine di giugno ora siamo veramente a pieno ritmo l'hotel Ancora e anche i nostri resident stanno lavorando bene abbiamo superato il primo trauma diciamo di tutte le regole normative ma ora siamo integrati bene riusciamo a lavorare come sempre con tutte le precauzioni naturalmente che ci sono imposte abbiamo tantissime attività all'aria aperta col nostro Beppe che è la guida che tutti i giorni propone delle attività abbiamo una pista ciclabile ultimata adesso a Predazzo molto carina ci mancava un pezzo e adesso è bellissima e stiamo finendo anche un bio lago a Predazzo e sarà pronto in agosto bene adesso sì chiaramente siamo un po in ritardo Predazzo lo sta realizzando il comune ma sarà veramente una chicca e penso che possa portare un qualcosa in più alla località ecco rispetto agli altri anni avete visto delle variazioni per quanto riguarda i turisti dalle varie nazionalità sono più italiani gli stranieri sono arrivati lo stesso come la situazione no assolutamente noi grazie italiani grazie a tutti perché ci state veramente salvando l'italia ha veramente bisogno di tirare di solidarietà anche quindi il mercato fare le vacanze italiane fondamentale il mercato ha risposto molto bene gli stranieri sono veramente in minima parte per il momento però stiamo lavorando bene con gli italiani però d'estate diciamo che gli italiani forse andavano sempre per la maggiore no come numero sì beh il luglio agosto è caratterizzato sempre da una clientela italiana però il giugno e il settembre normalmente erano molto presenti anche gli stranieri tedeschi che però quest'anno probabilmente mancheranno ma gli italiani hanno anche posticipato un po le scuole forse quindi noi siamo aperti a settembre quindi vi aspettiamo anche fino alla fine benissimo allora un messaggio positivo anche da predazzo ricordiamo i dati per potervi contattare eventualmente effettuare una prenotazione certo ci potete visitare sul www.ancora.it la mail è info chiocciola ancora punto it e il telefono è lo 0462 501 651 benissimo allora ribadiamo hotel ancora predazzo stefano crafonara vi aspetta a presto grazie